Cari figli, se mi solo aprireste i vostri cuori con la completa fiducia capireste tutto, capireste con quanto amore vi chiamo, con quanto amore desidero cambiarvi, rendervi felici, con quanto amore desidero rendervi inseguaci di mio figlio e donarvi la pace nella pienezza di mio figlio. Capireste l'immensa grandezza del mio amore materno, perciò viri miei fregate, perché solo attraverso la preghiera cresce la vostra fede e nasce l'amore, con la quale neanche la croce non è insopportabile perché non la portate da soli. In unione con mio figlio, glorificate il nome del Padre Celeste, pregate, pregate il perdono dell'amore, perché l'amore è unica verità. L'amore perdona tutto, serve a tutti, serve a tutti e in ognuno vede fratello. Figli miei, apostoli miei, grande è la fiducia del Padre Celeste che attraverso me la sua serva vi ha dato, per aiutare coloro che non lo conoscono, affinché si riafacificano con lui, affinché lo seguano. Perciò vi insegno ad amare, perché solo se avrete amore potrete rispondergli. Nuovamente vi invito, amate i vostri pastori, pregate affinché in questo tempo difficile il nome del mio figlio si glorifichi attraverso la loro guida. Vi ringrazio.